Ben trovati ad una nuova puntata di Informa Imprese. Oggi il Centro Consorzi ci presenta alcuni strumenti e opportunità per ripartire insieme nonostante l'emergenza coronavirus. Linea al Centro Consorzi. Eccoci ancora qua per continuare ad analizzare le misure di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del coronavirus ma in maniera differenziata per settore lavorativo. Oggi vogliamo approfondire il settore della manutenzione dei veicoli anche se alcune indicazioni rivolte a chi opera in questo settore sono comunque di interesse di tutti noi in qualità di clienti. Come vale per tutti gli esercizi commerciali è fondamentale garantire il distanziamento sociale di almeno un metro. Di conseguenza può valere il divieto di accesso se non si è stati espressamente invitati ad entrare nei locali di accettazione. In ogni caso vige l'obbligo di indossare sempre la mascherina. È necessario inoltre rendere disponibili guanti o prodotti igienizzanti per clienti e personale occupato anche i più punti dei locali. I servizi igienici, i distributori di bevande o gli altri spazi comuni devono essere ad esclusivo uso da parte del personale interno. Non saranno quindi utilizzabili da parte della clientela. Deve essere garantita la sanificazione dei veicoli sia in ingresso che in uscita attraverso appositi prodotti disinfettanti. Verranno sanificate tutte le superfici di contatto, volante, cambio, freno a mano, cruscotto e pulsanti, portiere interne e maniglie ma anche il completo abitacolo. Nell'attività comunque di movimentazione e manovra dei veicoli è comunque previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione monouso come i teli per sedili o volanti. È fondamentale che i veicoli vengano presentati in sufficienti condizioni igieniche da parte del cliente altrimenti le operazioni di sanificazione risulterebbero vane. In caso contrario l'operatore addetto potrebbe anche rifiutarsi di eseguire l'intervento. I lavoratori devono indossare la mascherina in tutte le zone e spazi comuni. È importante però valutare la tipologia di mascherina da utilizzare in funzione anche ai rischi propri lavorativi come può essere l'esposizione a polveri, a gas o altre sostanze chimiche. Nei prossimi giorni andremo ad analizzare le regole per altre specifiche attività lavorative. È tutto anche per oggi, arrivederci!